Come è il protocollo Abitar Biotech? In questo caso sono 89, abbiamo preso questo numero dal numero delle spirali del girasole che è il simbolo che identifica questo protocollo, gli edifici potranno avere da 1 a 6 girasoli e le famiglie indicatori sono suddivise tra sicurezza, energia, design for all, spazi esterni, comfort, abitabilità. Il protocollo è stato pubblicato in edizione Edicom in un libro che è in vendita nelle librerie ed ha un suo sito dedicato nel quale chi è interessato può trovare tutte le informazioni.